Per penetrare nella folta macchia l'uomo mascherato scosta i primi cespugli. Con sua sorpresa questi gli rimangono in mano. Torcimi un solo capello e la ragazza che era con te morirà. Ti hai detto Diana? Già Diana Palmesi è in mano mia e se non ci credi premi il pulsante di quel citofono sul mio tavolo. Perché sei un uomo mascherato accetto il tuo passato. Ti amo come sei ma vorrei scoprirti il volto. Vorrei vedere gli occhi tuoi. Nella cantina silenziosa il grande orologio scandisce i secondi che separano Diana dalla sua orribile fine. Prima di agire contro questi banditi devo mettere al sicuro Diana ma dove sarà? Ancora dieci minuti e poi oddio non voglio pensarci è così allora Diana deve essere laggiù dove sarà Diana? non cede Diana eccomi appena in tempo è orribile perché sei l'uomo mascherato adoro il tuo passato ti amo come se sì sono l'uomo mascherato ma più che il mio passato preferisco il presente con te grazie 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 grazie